In questo video analizziamo il Blackmagic Design Ultra Studio Monitor 3G, un dispositivo essenziale per i professionisti e non solo del video, che necessitano di un monitoraggio di alta qualità. Questo strumento è progettato per offrire una riproduzione fedele delle immagini, garantendo che i colori e la qualità visiva siano riprodotti con precisione, su monitor professionale o su un display di riferimento. Bentornati sul canale, sono Giancarlo. Oggi vediamo come e perché utilizzare uno strumento per me indispensabile per garantire un'esperienza visiva decisamente soddisfacente. Questo dispositivo è pensato per chi lavora con software di editing video come DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer e Final Cut Pro e desidera un'uscita pulita e precisa per il controllo del colore e la revisione delle immagini. A differenza della semplice riproduzione sullo schermo del computer, l'Ultra Studio Monitor 3G consente di visualizzare l'anteprima su un monitor, preferibilmente professionale, garantendo una resa fedele e priva di artefatti. Vedremo così sul monitor quello che realmente è presente sulla nostra timeline. Funziona in ambiente Mac, Windows e Linux. Perché utilizzarlo? Grazie alla sua capacità di fornire un'uscita video di alta qualità è perfetto per il color grading e la revisione finale dei progetti. Il segnale trasmesso è privo di compressione, quindi il monitoraggio avviene senza perdite di qualità. Perfetto per chi lavora su progetti broadcast o cinematografici e ha bisogno di vedere esattamente ciò che il pubblico vedrà. Se non usi un I.O. device come l'Ultra Monitor 3G, allora il computer si occupa di tutto. L'anteprima video viene generata e visualizzata direttamente tramite la scheda grafica e il software di editing, utilizzando l'uscita video del monitor del PC o Mac. Questo può comportare una riproduzione meno accurata da un punto di vista cromatico e della qualità delle immagini, poiché il segnale passa attraverso la gestione della GPU e del sistema operativo, che potrebbe introdurre alterazioni. Inoltre a seconda del monitor che utilizziamo, la risoluzione della timeline può essere scalata dal nostro computer per essere adattata alla risoluzione del monitor con il quale stiamo lavorando. Anche il frame rate adottato può avere delle ripercussioni sulla visualizzazione. Se usi l'Ultra Studio Monitor 3G, invece, il dispositivo si occupa esclusivamente di trasmettere un segnale video pulito e non compresso al monitor di riferimento, senza alterazioni da parte della GPU o del sistema operativo. Viene trasmesso quello che viene definito un clean signal feed. Tuttavia non fa codifiche o elaborazione, si limita a inviare il segnale video in formato SDI o HDMI, in modo da garantire una riproduzione fedele. Il carico di lavoro principale, di codifica, rendering, effetti, rimane comunque a carico del computer, ma il vantaggio è che il monitor di riferimento, che dovrebbe essere ben calibrato, riceve il segnale nella forma più pulita possibile, più precisa possibile. La GPU del computer non può darmi un'immagine così accurata come un IO device, un dispositivo di ingresso e uscita, e molte schede grafiche inviano un segnale a 8 bit e non a 10 bit, che è molto più accurato in termini colorimetrici. Come potete vedere, è una piccola scatoletta che misura circa 92x45 mm, per un peso di 160 grammi. È davvero piccolo, ma ben costruito e resistente. Il dispositivo offre due tipi di connessione, SDI 3G e HDMI. SDI 3G per connettersi a monitor, broadcast, switcher e altri dispositivi professionali con uscita SD o HD a 10 bit commutabile, con audio a 16 canali integrati in SD e HD. HDMI per l'uso con monitor consumer di alta qualità o schermi di riferimento. È un HDMI 2.0 tipo A a 8 canali integrati, in SD e HD. Il segnale supporta HD fino a 1080p60, quindi è perfetto per il lavoro in Full HD, ma non supporta il 4K. Questo potrebbe essere un limite per chi lavora con risoluzioni più elevate. I codec compatibili sono davvero tanti e sono i più comuni, AVC Intra, XD Cam, DNX HR, Apple ProRes e tanti altri, che vi metto in sovraimpressione. Gli standard video sono i più comuni, sia in progressivo che interlacciato. In SDI abbiamo più standard rispetto all'HDMI. L'SDI in ambito broadcast è la scelta preferibile. Abbiamo un campionamento video HDMI-SDI a 422 e 444, uno spazio colore REC 601, 709 e 20-20. La precisione del colore è 444 RGB a 8, 10 e 12 bit fino al 1080p30, 422 e YUV a 8 e 10 bit in tutti gli standard. Il campionamento audio, sia tramite HDMI che SDI, supporta una frequenza di campionamento in standard televisivo a 48 kHz a 24 bit. Le porte funzionano contemporaneamente, quindi è possibile inviare, nello stesso tempo, il segnale SDI, per esempio, a un monitor di riferimento e il segnale HDMI ad uno switcher. Un altro utilizzo che può essere interessante è quello di espansione dei monitor collegati al proprio computer. In casa Apple, ad esempio, con il progredire dei processori, siamo ora agli M4, è aumentato anche il numero di monitor che possiamo collegare al nostro Mac. Il numero delle porte dei monitor collegabili può essere aumentato tramite l'ultrastudio monitor per chi ne avesse necessità. Nei primi MacBook con processore Apple Silicon si poteva gestire un solo monitor o due, considerato quello integrato già come uno. Per utilizzare l'ultrastudio monitor 3G è necessario installare il software Blackmagic Desktop Video, disponibile sul sito ufficiale di Blackmagic, altrimenti il nostro computer non riconoscerà in automatico il dispositivo. Andate sul sito di Blackmagic, all'indirizzo blackmagicdesign.com, selezionate supporto, quindi acquisizione e riproduzione, scaricate la versione adatta al vostro sistema operativo e processore nel caso di Mac. Installate il software con il vostro software di editing chiuso. Sul sito di Blackmagic trovate anche il manuale in italiano oltre al software. L'immagine sul monitor collegata all'ultrastudio apparirà quando aprirete il software compatibile, quindi per esempio DaVinci Resolve, e non prima. È un monitor dedicato solo al monitoraggio, questo è bene capirlo, quando è collegato a questo device. Aprendo il software Blackmagic Desktop Video, cliccando il pulsante al centro, avrete la possibilità di selezionare le impostazioni generali, come Default Video Standard, che nel mio caso lascio a 1080p25. Potete scegliere in Video Playback, se volete che quando non è in Play filmato sul monitor di riferimento appaia il frame su cui è la Playhead o lo schermo nero. Qui a volte molti si chiedevano cosa non funzionasse, perché non vedevano le immagini e perché il video non era in Play. Più sotto ci sono le impostazioni di SDI Output e specifiche per Final Cut Pro. Salvate eventuali modifiche e siete pronti ad utilizzarlo. Potrebbe capitare che il software non funzioni, in tal caso andate nelle impostazioni di sicurezza del Mac e verificate che in Privacy e Sicurezza non sia bloccato l'utilizzo del software. Quando installate il software o un aggiornamento dopo aver riavviato il computer vi consiglio di staccare il cavo di collegamento Thunderbolt e riattaccatelo se non viene riconosciuto il dispositivo. Vediamo quali impostazioni possiamo modificare in DaVinci Resolve per utilizzarlo al meglio. Andate in Preferences, Command più virgola e selezionate la scheda Video e Audio, Input Output. Qui accertatevi che nella sezione Video I.O. in Monitor Device compaia Ultra Studio Monitor 3G e chiudete. Aprendo poi un progetto in DaVinci andate in Project Settings, l'ingranaggio in basso a destra, e in Master Settings sarà presente la risoluzione della nostra timeline. Nella scheda sottostante in Video Monitoring in Video Resolution possiamo scegliere la risoluzione, qui HD in linea con questo device. Ora andiamo nella pagina di Image Scaling. In Output Scaling troveremo di default flaggato Match Timeline Settings, ovvero si allinea alla risoluzione della nostra timeline. Questo però su un video di monitoring collegato all'Ultra Studio Monitor causerà un ritaglio dell'immagine, perché invia un segnale in 4K e non in HD che il device è in grado di inviare al monitor. Leviamo il flag e selezioniamo quindi la risoluzione 1920x1080 HD e non Ultra HD e avremo così un'immagine perfetta sul monitor di riferimento. Lavorare in questo modo permette al computer tra l'altro di sforzarsi di meno. Al termine del nostro montaggio e color basterà riselezionare l'output in Ultra HD per avere un file esportato in 4K. Verificatelo sempre nella pagina di Delivery in DaVinci prima di lanciare l'export. La dicitura 3GIGA SDI indica che il dispositivo supporta segnali fino a 1080p a 60fps con una banda passante massima dei 3GB per second. Al contrario, 12GIGA SDI può gestire risoluzioni fino a 4K a 60fps con una banda fino a 12GB per second. Quindi se lavori con il 4K potresti aver bisogno di un dispositivo con connessione 12G SDI. L'Ultra Studio Monitor 3G si alimenta direttamente tramite la connessione Thunderbolt 3 eliminando la necessità di un alimentatore esterno. Questo lo rende particolarmente pratico per workstation mobili e setup minimalisti. Potete usare un Thunderbolt 2 con adattatore. Devo dire che si scalda abbastanza durante l'uso. È compatibile con i principali software di editing e color grading, tra cui DaVinci Resolve, perfettamente ottimizzato per Blackmagic. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Avid Media Composer. È compatibile anche con Adobe Photoshop, Steinberg, Cubase, Innuendo e tanti altri software. Il Blackmagic Design Ultra Studio Monitor può essere utilizzato con la maggior parte dei monitor, ma ci sono alcune considerazioni da tenere a mente su utilizzi monitor Apple. Se usi un Pro Display HDR o Studio Display, questi hanno solo ingressi Thunderbolt USB-C, quindi non SDI o HDMI. Per cui un collegamento diretto non è possibile. Dovresti verificare se un adattatore HDMI e USB-C funziona correttamente. Attenzione, non tutti gli adattatori sopportano segnali video provenienti da dispositivi di output come questo e, non avendolo mai provato, non so come rispondono in termini di latenza e capacità di riproduzione in profondità di bit. Io lavoro normalmente con tre monitor. Lo schermo primario è un Apple Pro Display XDR. Il secondario è un Azo che calibro con la sonda Azo e X4 collegato tramite USB-C e poi un Sony Broadcast professionale di riferimento che collego tramite Thunderbolt e SDI all'Ultra Studio Monitor. L'ovvia premessa è che ogni monitor va calibrato per garantire una resa accurata nella riproduzione video. L'output sui monitor Apple, che sono ottimi, ha spesso causato qualche rompicapo e devo dire che una soluzione ottimale e definitiva si stenta un po' a trovarla. Quando si lavora con alcuni programmi di editing e poi si esporta e si guarda il video con diversi player o diversi monitor. Questo in cosa si traduce? In una resa in termini di luminosità, contrasto e saturazione che può a volte non essere coerente con i vari dispositivi con cui si osserva l'export. Ne abbiamo già parlato sul canale e ne parleremo ancora di Gamma Shift e Tassimilia. Ovviamente guardare un video con un monitor da 6K oltra professionale non è la stessa cosa che guardarlo su un monitor ai limiti della decenza o su un display di uno smartphone o di un tablet. I monitor di riferimento professionali arrivano a costare 10.000 euro e oltre e ci sarà un perché. Se utilizzi un computer portatile Apple come il MacBook Pro e vuoi monitorare il segnale tramite l'Ultra Studio Monitor non puoi visualizzarlo sullo schermo integrato. L'Ultra Studio non funge da scheda video e non sostituisce il monitor principale. Viene riconosciuto da software di editing come uscita video dedicata per il playback e il color grading su un monitor di riferimento. Se il tuo scopo è il color grading professionale è meglio investire in un monitor HDMI-SDI di riferimento. Ricordatevi che la connessione in entrata è Thunderbolt 3 e non USB-C per cui utilizzate la porta corretta o verificate che il vostro computer sia dotato di tale porta. Se collegate tramite USB-C non si illuminerà la luce LED che indica l'avvenuto collegamento e avrete un messaggio di alert sul display. Prendendo alimentazione dalla connessione Thunderbolt questa deve fornire energia. Potete utilizzare anche una dockstation collegata al computer ovviamente sempre tramite connessione Thunderbolt. Blackmagic produce molte versioni di questi device di input-output e in base alla risoluzione HD, 4K eccetera e al numero di ingressi uscite hanno un costo. Sul mercato ce ne sono diverse di diverse marche ma mi sono indirizzato su questa entry level perché lavorando principalmente con DaVinci Resolve l'integrazione è perfetta. Inoltre mi sembra che altre interfacce non supportino Resolve mentre questa supporta altri software. Parlando di prezzo direi che con un costo di circa 170 euro non c'è da pensarci. Per quello che dà è più che giustificato. Il limite come abbiamo visto è quello della risoluzione in HD e non 4K ma per un monitoring che non richieda espressamente standard superiori direi che va benissimo. Per YouTube ad esempio va più che bene anche se si esporta in 4K. Se poi avete necessità di avere un monitoring in 4K perché dovete esportare per broadcast in 4K e volete giustamente monitorare bene l'applicazione di un denoise o l'aggiunta di grana ci sono quelle di fascia superiore di Blackmagic come la Ultra Studio 4K Mini che supporta risoluzioni fino al 4K DCI e connessione 12G SDI, la Declink 4K Extreme 12G o per flussi in 8K la Declink 8K Pro. Il prezzo qui sale e arriva a circa 1200 euro ad esempio per la Ultra Studio 4K Mini. Si dividono in card ovvero schede da montare internamente al pc o box preferibili come questa che abbiamo visto oggi e che troverete spesso nelle sale di montaggio professionali nelle versioni superiori. La versione box sia HD che 4K nella versione Mini è poco ingombrante e quindi portabile anche sul set collegata ad un laptop quindi svincolata da un determinato computer. Le versioni superiori hanno molte connessioni input output di ingresso e uscita, SDI, HDMI, audio analogico e timecode in base alle esigenze della produzione. Utilizzando l'Ultra Studio Monitor è necessario che il monitor di riferimento sia calibrato? Certamente, lo ripeto, il segnale che arriva al dispositivo è preciso e accurato ma se il monitor non è calibrato avremo una rappresentazione errata del segnale pulito e quindi faremo ad esempio una color errata. In DaVinci Resolve in Workspace abbiamo la possibilità di selezionare Video Clean Feed per mandare il segnale del video in anteprima ad un monitor mentre su un altro monitor è presente la user interface. Questa anteprima gestita da DaVinci viene però generata dalla scheda grafica del computer e non garantisce la qualità offerta dall'Ultra Studio Monitor. Inoltre è legata alla risoluzione della timeline mentre con l'Ultra Studio possiamo scegliere nelle impostazioni del software di editing la risoluzione da inviare al monitor per il monitoraggio. Il rendere in finale in fase di esportazione verrà fatto dalla GPU ovviamente ma se abbiamo lavorato guardando il monitor di riferimento un'immagine corretta inviata dal dispositivo di input output avremo un risultato decisamente coerente con quello che abbiamo fatto lavorando con quel video di riferimento. Poi che appaia diversamente sui vari monitor dipenderà dalla calibrazione o meno di questi ultimi. Il Blackmagic Design Ultra Studio Monitor 3G è un'ottima soluzione per chi necessita di un'uscita video affidabile e professionale per il monitoraggio in Full HD. La sua precisione cromatica, la facilità di installazione, le dimensioni compatte e la compatibilità con i principali software di editing lo rendono un must have per videomaker e colorist. Tuttavia se hai bisogno di lavorare in 4K oltre potresti dover considerare soluzioni alternative con 12G SDI. Se il video ti è stato utile lascia un like e iscriviti al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!